La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E proseguiamo con eccellenza dell'anno Innovazione Leadership Consulenza per Italia. Questo premio va a Adami Group. Per l'alto grado di specializzazione raggiunto nel settore dell'ingegneria, delle assicurazioni nell'ambito tecnico legale. Per il team di professionisti capaci di gestire procedure complesse, per la direzione tecnica di strutture per Italia in grado di tutelare e curare gli interessi dei clienti in Italia e in Europa. Adami Group, eccolo qui il premio di questa sera, grazie. Diamo il benvenuto questa sera all'ingegner Nicola Adami, CEO di Adami Group, gruppo operante nel settore dell'ingegneria applicata ai rischi delle assicurazioni, delle PMI, delle grandi aziende e delle amministrazioni pubbliche. Ingegnere Adami, cosa vi distingue dai competitor e quali sono i vostri valori aziendali? Più che distinguerci dai competitor, ci vede di fatto competitor, nel senso che noi da sempre abbiamo applicato la scienza dell'ingegneria alla pratica del risk management, che fino a pochi anni fa forse non era una metodologia adeguata per l'industria delle assicurazioni. Questo è un po' il nostro marchio distintivo, quindi ci occupiamo dei casi che ci vengono affidati, generalmente sono dei casi che prevedono comunque delle competenze tecnico-legali e con la metodologia da noi seguita generalmente riusciamo a presidiare le varie questioni di cui dobbiamo occuparci, sia in una fase che è preventiva sia in una fase poi più operativa, quando si chiamano rischi gli affari delle assicurazioni, quindi ciò che le assicurazioni assicurano e quindi questa è la nostra attività principale. Lo facciamo sempre più o meno in questo modo, ma sempre avendo un occhio di riguardo per la valutazione del rischio. È una metodologia che noi abbiamo applicato ormai da dieci anni e ci perviene dalle nostre partnership col mondo accademico e il mondo economico. Per quanto riguarda invece i nostri elementi fondanti, tutte le società di Adami Group si fondano su un'etica professionale, quindi sulla valorizzazione di tutti i nostri stakeholders e quindi abbiamo come primo obiettivo la persona più che l'intero business. In questo modo noi riusciamo a dare un volto alle nostre attività. Cioè, in qualsiasi caso, prima di essere in una procedura legale o esecutiva, diventa il volto di una persona che è il nostro referente. La particolarità dello studio per Italia Adami è l'alto grado di competenza in vari settori, dall'ingegneria all'informatica alla geologia. Come riuscite a garantire alti livelli di specializzazione in campi così diversi? Noi promuoviamo la continua sinergia di più discipline, quindi e lo scambio, e lo scambio di informazione tra una disciplina e un'altra. Cosa vuol dire? Che all'interno del nostro staff, per ogni caso dedicato, ci sono persone che, professionisti, che hanno discipline diverse, e quindi che possono tra loro interscambiare le loro informazioni, al fine poi di risolvere il caso che di volta in volta ci viene proposto. Ingegnere Adami, passando al futuro, quali sono i vostri obiettivi nei prossimi anni e come intendete migliorare ancora di più i servizi che offrite ai clienti? Abbiamo già cominciato da quest'anno in modo, direi, abbastanza evoluto. Abbiamo, diciamo, promosso due progetti. Il primo, che ci occupa a livello europeo, è la ricerca di una armonizzazione delle procedure giudiziarie, quindi di ingegneria applicata alle procedure giudiziarie, tra i vari Paesi membri. E questo lo abbiamo fatto formando già dei gruppi di lavoro e formando delle associazioni che sono collegate alla Corte di Giustizia Europea. Il secondo filone del nostro sviluppo, o almeno quello che vorremmo che fosse nel prossimo futuro, è il nostro contributo allo sviluppo dell'intelligenza artificiale all'interno dell'industria assicurativa. In tal senso abbiamo già cominciato alcune collaborazioni e riteniamo che sia importantissimo, perché l'intelligenza artificiale sarà il futuro, ma sarà anche da presidiare. Quindi partire bene con un progetto di intelligenza artificiale che si autogenera nel tempo è importante e sono importanti i contributi di professionisti che possono poi dare il loro apporto in questo campo. Questa sera Dami Group ha ottenuto l'award Le Fonti per l'eccellenza dimostrata nel campo della consulenza peritale. Cosa rappresenta per voi questo riconoscimento e tornerebbe qualora foste ricandidato? È un riconoscimento importante per il quale devo anche poi assolutamente ringraziare il comitato di redazione che ci ha prescelti, che ci ha almeno individuati e candidati. Certamente rappresenta qualcosa per il nostro gruppo, per tutti quelli che ci lavorano all'interno e quindi ritirare un premio di questo genere per conto di chi oggi o questa sera non è con noi è per me fonte di maggiore soddisfazione ancora. Per quanto riguarda invece la candidatura, certo che sì, saremo ben contenti di essere candidati anche in futuro e visto che il nostro è un gruppo internazionale che si sta espandendo anche all'estero, magari può essere che possiamo essere candidati in qualche altro paese o dell'Unione oppure anche fuori dall'Unione, insomma questo sarà sicuramente una soddisfazione.